E' stato convalidato il sequestro dell'abitazione di via 4 Novembre, presso la quale nei giorni scorsi sono state scoperte una serie di attività legate alla prostituzione. Accolte in toto le imputazioni dell'informativa trasmessa dalla polizia locale che ha fatto scattare i sigilli all'immobile lo scorso 31 agosto. I caschi bianchi durante il controllo hanno scoperto nello specifico due ragazze, una di origini dominicane ed una di origini colombiane, entrambe dedicate alla prostituzione.